Buongiorno a tutti i cittadini genovesi, siamo in giornate difficili ma il Comune, la Giunta è operativa. Per quanto mi riguarda stamattina ho fatto una lunga riunione con AMT e con AMIU per cercare di affrontare alcune questioni che i cittadini ci hanno posto. Per quanto concerne AMT il servizio di mobilità e di trasporto pubblico è garantito e cercheremo sulla base anche delle indicazioni avute dei cittadini di intensificare il servizio nelle ore di punta e su quelle linee dove ci verrà segnalato un maggior afflusso. Nel contempo abbiamo provveduto, stiamo provvedendo alla sanificazione dei mezzi, alla sanificazione anche della stazione della metropolitana. Per quanto concerne AMIU vanno avanti i servizi di pulizia ordinari, nel contempo abbiamo sospeso la pulizia delle caditoie che verrà fatta ma senza spostare le auto per far sì che i cittadini non debbano uscire a spostare le auto e proprio stamattina abbiamo deciso insieme a AMIU di intensificare la sanificazione e quindi ci saranno delle squadre che andranno a sanificare i luoghi più frequentati, quindi le zone all'ingresso di supermercati, all'ingresso della metro, all'ingresso delle farmacie in maniera tale che si possa implementare la sanificazione. AMT, AMIU e il mio assessorato all'ambiente e trasporti è disponibile, basta mandare un'email e nel giro di qualche minuto saremo in grado di rispondere e di dare adeguate informazioni o addirittura anche di intervenire laddove ci vengono segnalate delle emergenze. È un momento difficile ma dobbiamo stare sereni, accorti, stare tutti insieme, dobbiamo stare a casa e tutti insieme ce la faremo a superare questo momento.